Non è stare chiuso qui, riempiti del sole e vai, cerca la sua casa e poi, scrivi tutto ciò che sei. Non è Pensiero, cerca di spiegarlo a lei, pensiero, quella morte giù in città, non c'è, male non ne ho fatto mai, davvero, davvero. Sono lei, nell'anima, ma è rimasta, lo sai, questo uomo inutile, troppo stanco è ormai. Solo tu pensiero, puoi uccidere se vuoi, se vuoi. La sua famiglia è morta, ma che sei da qui? La sua famiglia è morta, ma che sei da qui? Pensiero. La sua famiglia è morta, ma che sei da qui? Grazie! Grazie!